Veniamo ora al premio Elf du Medium, che è una delle corse più antiche. Si disputa all'Ipadrono Padovanelle di Padova, una zona che ha molti allevamenti, una zona dove il trotto è molto sentito, molto seguito. È andata in testa Siginda con il numero 2, dopo che Castiglione aveva rotto in partenza. Vedete anche Zardoz a largo, e poi Arcos del Ronco e Atmos. Queste sono le posizioni che praticamente non cambieranno più fino al traguardo. La pista è di 800 metri, di mezzo miglio. In testa quindi Siginda, una cavalla che aveva vinto lo sfollamento del Giovanardi a Modena in 1-18-7, ma poi si era un po' scucita nelle prove di Bologna, una figlia di Milenko. Leone però l'aveva preferita ad un altro cavallo. Ha avuto ragione, ha preso il comando, come ho detto, Zardoz, che era il grande favorito. Le ha andato all'esterno, Giuseppe Gunzinati ora comanda il suo cavallo, siamo sull'ultima curva, e sembra che risolva a suo favore la partita. Dietro allo steccato c'è Arcos del Ronco, e a largo c'è Atmos con il numero 7, che è guidato da Vittorio Gunzinati, che è il fratello di Giuseppe. I cavalli entrano in dirittura dal rio, una dirittura piuttosto breve, qui a Padova. Vediamo che Leone chiama la sua cavalla, tutti e due cavalli sotto l'azione della frusta, chiamati al massimo, ma non avanza Zardoz, e vince nettamente Siginda davanti a Zardoz, Arcos del Ronco e Atmos. Oggi si è...